Obiettivo centrato. La VL batte Tortona e, complice alla riuscita e obbligata combinazione della sconfitta di Brescia, approda i play-off per il secondo anno consecutivo. Una regular season chiusa all'ottavo posto per gli uomini di Repescia grazie alla quattordicesima vittoria stagionale sulla Bertram terza forza del torneo domata per 82-78. Un urlo di gioia che per i 5.300 spettatori della Vitrifico Arena si può liberare solo qualche istante dopo la sirena di Pesaro, ovvero quando da Scafati arriva la notizia della vittoria della Givova capace di rimontare 20 punti di passivo a Brescia che viene sconfitta e relegata al nono posto. E allora la gioia del tifo peserese può riversarsi sul parchè dell'astronave. Tifosi che avranno almeno altre tre gare da osservare fra tribolazioni e speranze, quelle dei play-off con la prima della classe Armani Milano. Quarti di finale che cominciano sabato con gara 1 al Mediolanum Forum, si resta a Milano per gara 2 di lunedì 15 maggio, gara 3 a Pesaro giovedì 18 maggio. Saranno invece play-out per il tal service Pesaro che si giocherà in un doppio spareggio la permanenza nell'Olimpo del futsal italiano. La sconfitta in casa del Petrarca Padova per 3 a 1 condanna i biancorossi allo spareggio con il Monastir per difendere la Serie A. È girato tutto storto in Veneto con il vantaggio di Tony Dandel maturato nel secondo tempo ad illudere verso quella vittoria pesarese che sarebbe valsa la salvezza diretta, invece avvilita da rimonta e sorpasso dei Padovani con doppietta di Mello e gol di Oitomeia. L'Ital service chiude così la regular season al dodicesimo posto con 37 punti e con la beffa che al Petrarca Padova non è nemmeno bastata la vittoria, perché comunque retrocesse in A2 per la concomitante vittoria del Monastir. Ora Pesaro avrà due settimane per ricaricare le pile e sabato 20 maggio avrà il primo impegno play-out in Sardegna con ritorno al Palafiera il 27 maggio. Nel calcio di Serie D chiude alla grande la stagione l'Alma Juventus-Fano centrando la quinta vittoria di fila per 2-3 in casa del Notaresco. Vittoria con le firme Granata di Zingaretti, Drolè e Nappello. Ora il Fano domenica giocherà la semifinale play-off in gara unica a Roma in casa del Trastevere. Finisce con una sconfitta la stagione della Fiorini-Pesaro-Regbi che perde 31-11 in casa di Civitavecchia e chiude il campionato con un onorevole bottino di 38 punti per il sesto posto finale. Hanno invece nel mirino il primo posto i ranocchi Angels-Pesaro di football americano dopo aver sbancato ieri il campo dei Dovs Bologna 28-14 al termine di un'altra prova convincente. Primo posto che andrà conteso a elegio tredicesima Roma nell'ultima giornata di regular season il 28 maggio a Pesaro.